Nel weekend appena trascorso, gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara sono riusciti a mettere ancora una volta la parola fine all'attività di spaccio di due cittadini italiani di Montesilvano. Due storie completamente diverse, ma dallo stesso finale. La prima, sottoposta a perquisizione personale e domiciliare, viene sorpresa mentre vende droga ai clienti direttamente a casa, a ritmo ininterrotto, anche di notte. Una condotta reiterata la sua, tanto che fino a qualche giorno fa si trovava ancora agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio. I militari la denunciano nuovamente all'autorità giudiziaria locale e le sequestrano 100 grammi di hashish che, immesso sul mercato della droga, avrebbe fruttato quasi 1000 euro. Il secondo, invece, viene fermato mentre si trova alla guida della sua autovettura. Quando i cani dell'unità cinofila affiutano la droga nascosta nel portabagalli, viene travolto da ansia e agitazione, incensurato, viene deferita l'autorità giudiziaria per spaccio, arrestato e portato in carcere. In macchina trasportava sette panetti di marijuana e nel suo appartamento ne nasconde altrettanti, per un totale di 2 kg di sostanza stupefacente, per un valore economico di oltre 15.000 euro. L'operazione Drug Market, attivata in questa occasione, già a gennaio aveva portato al sequestro di 45 kg di marijuana, bruciando un tesoretto illecito di mezzo milione di euro. L'obiettivo, spiega il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara e Duplice, disarticolare la filiera illegale della droga, bloccandone i flussi di approvvigionamento e disinnescare l'ultimo fenomeno emergente in questo contesto, il welfare della criminalità. I corrieri sempre più spesso sono lavoratori precari o addirittura disoccupati, comunque indigenti o stagi di povertà. Vivono una condizione sociale svantaggiata e troppo spesso si rassegnano a un destino all'ombra dei pusher della droga.